Ed ora, amici telespettatori, comincia la sfilata dei pappagalli per il nostro concorso settimanale. Il primo concorrente di oggi è il pappagallo di Maracanà. Prego signore, si accomodi da questa parte. Spero che il volatile sia in forma. Come lei sa il suo pappagallo? Può vincere il premio di 500.000 cruiseros se in 30 secondi riesce a dire questa frase. Casa da bagna sempre meglio. Tempo! Parla, su. Casa da bagna. Avanti, parla. E parla, dai, amico mio, parla. Manca la sua da bagna. Non farmi perdere tempo. Parla, parla. Ma scazzato!